Grazie a tutti. Non sono ancora finite, sono appena iniziate. Senta, hai lì? Musiche, musichette, l'ha visto quanta roba lì? Banane, frutto, tutto sano, tutto sano. Come la va, Pirozzi? Molto bene, molto bene. Come si dice? Patente e libretto. Come che senti? Io sono una poliziotta, mi sta facendo un'intervista. A me, a me, no, scusi, io le dico che con questi occhi qua, io le do tutto quello che vuole, patente, libretto, cuffie, occhialini. E fermiamoci qui. E fermiamoci lì, no, fermiamoci. Certamente, ma scusi, aspetti un attimo, ma come si dice? Quanto è bello far l'amore da Trieste in giù. Perché è finita Trieste? Eh, perché è una storia molto, un po' lunga, un po' particolare, no? Un storo d'amore? No, 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 no. Un amore natatorio? Esatto, sì, d'amore natatorio. Sì, 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 è un grande amore e quindi adesso alla meglio, quindi mi sono trasferita tu perché mi sono trasferiti, ho avuto un po' di problemi in famiglia e quindi ho scelto di star vicino alla mia famiglia. Sì, sì, molto meglio, grazie. Come si sta sulla piazza acquatica di Trieste? Me lo dica lei che si vuole dire? Ma io sto benissimo, ho trovato un ambiente super ospitale, molto disinvolto, mi sono inserita molto bene, poi insomma riesco ad inserirmi facilmente io, non mi manca. Come si fa? Lei è una campionessa, con tanta bellezza di occhio, ma come si fa ad avere dei problemi lì a Trieste? Quindi sono molto bene, sto molto bene, sono serena. Ma però la domanda mia è questa, ma lei questi tratti somatici triestini da, come si dice? Da slovena, perché mia mamma è slovena a confine. La mamma è slovena, la mamma è slovena, lei invece è un po' benerentana, è un mix bellissimo. Sì, è un mix, doppia cittadinanza, un po' italiano, un po' slovena. Lei me lo parla a triestino? Eh, non ancora. Non mi diventi rossa, che senso? Piano piano, sto facendo delle lezioni private per imparare il dialetto triestino. Lezioni private per imparare il dialetto triestino. Eh sì, devo inserirmi alla grande. Mi sembra che ci sia un amico, un compagno, un fidanzato. No, 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 io sono single. Ah, lo dichiariamo? Sì, sì, single, sto benissimo. È una meraviglia. Una meraviglia proprio. Senta, lei mi si è qualificata per giochi del Mediterraneo. Mediterraneo e campionati europei ad agosto. Ma che spettacolo, già bella carica. Bella carica. Anzi, anche te la 4x2. Sì. Quindi c'è di mezzo la signora Pellegrini anche? Speriamo. Come speriamo? Lei mi apre una possibilità. Beh, certo. Vabbè, Federica è senz'altro... Ci vuole. Ci vuole, sì. Però insomma, noi sotto ci siamo un po' afflosciate. Ecco, non so come mai cosa sia successo. Perché lei mi sta, in generale, lei mi sta in una forma fisica pazzesca. Ci stiamo lavorando. Ci stiamo lavorando. 6 kg l'abbiamo buttati via. Finalmente l'abbiamo persi. Adesso bisogna lavorare un po'. Sì, sì. Mi sta mista? Sì. Bisogna giusto un po' lavorare su questa spalla che è sempre un po' dolorante. Scusi, ma da sempre, ormai sono 5 anni, quindi... Ma lei quando passa da Roma, un po' di nostalgia per Ostia, il Centro Federale. Sì, sì, mi manca Ostia un pochino. Mi manca tutto? Lo ammetto. Un pochino il Centro Federale. Io ho vissuto bene a Ostia, dai. Con Morinca, sono anche i saluti. Sì, 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 sì. Ho anche il suo ex fidanzato, che ha lo stesso problema nella spalla. Eh sì. Però, li voglio... Però, riattivi un attimo quella linea telefonica, lo saluti, gli mandi un ciao, come stai? Vi siete più gentili? Ciao. Ciao, 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 ciao. No, che ciao, ciao, no, ciao, nel senso c'è ancora affetto, no? Perché siamo tutti quanti della stessa linea, poi da parte, cosa possiamo andare a finire. Certo, infatti, le storie iniziano, finiscono, quindi, no, no, massima stima rispetto anche al campionato mondiale. Sono stata, penso, vabbè, dopo i genitori, ovviamente, lui stesso, felicissima del risultato del campionato mondiale, del titolo che ha vinto. Lei lo sa che mi è sempre più bionda? Eh sì, ho schiarito un po'. Sì, ma venire qui a Roma, magari in un futuro? Cioè, ritornare, scusi. Ho fatto un passaggio a Roma. Lo so, perché cercava casa anche, no? Sì, sì, però adesso, insomma, sto su, sto molto bene, comunque il mio obiettivo era sempre quello di, in un futuro, stabilirmi, comprare casa a Trieste. A Trieste? Non a Roma? No, quindi, non so, la vedo dura tornare a Roma. Vabbè, magari un piede a terra, non so. Eh, non so, vediamo. Anche perché lei è fiamme oro. Mi fa piacere tornarci ogni tanto, con molto piacere, più ostia che Roma, però, dai. Perché lei è un, è un, come dire, una fiamme oro tutto tondo. Sì, 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 fiamme oro, circolo canottieri Napoli anche. A Napoli, sì, certo. Ma un'ideuzza, no, perché non girava voce, ci fosse un'idea, magari, di Aniele. No, 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 anche perché comunque il tessonamento è canottieri Napoli da tanto tempo e non, insomma, rimarrà sicuramente canottieri Napoli e fiamme oro. A Napoli ci va ogni tanto, sì. A Napoli vado ogni tanto, adesso un po' meno, perché la Trieste è un po' più difficile, non è proprio dietro l'angolo, però, dai, quando mi manca ogni tanto vado per sentirmi un po' a casa. Senta, mi faccio vedere quello che devo dire, perché lei è stata l'ina delle... Ma se sono sentici. No, perché lei se ne guarda lei, ma come se ne guarda lei, ma come se ne guarda lei, ma è serata rosa, ma sono incontrolante. Terate rosa, ho fatto di peggio. Quelle fendono l'acqua. Esatto, esatto. Senta, l'allenamento come procede? Bene, dai, ho avuto, come dicevo, dei problemini prima degli assoluti con questa spalla che sono stata ferma un mesetto, erano anche un po' a rischio. Non pensavo di partecipare al campionato italiano assoluto, però adesso sono in ripresa, ho fatto terapie, la spalla sta meglio e adesso riniziamo per... Basta chiropratici romani. No, io Renaudetian lo saluto e mi segue da ormai 11 anni. Ma scusi, ma è che è quel francese con quei baffoni da Sparbero? Esatto, 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 quindi è la mia ancora di salvezza. Ma come fa' zicca a sapere tutte queste cose? Ma fa' zicca a sapere tutte queste cose, infatti... Eh, io mi informo, io mi informo, io mi seguo. Bene, è giusto, giusto così. Senta, ci facciamo un fullato insieme? Sì, dai, come zenzero. Ah, zenzero, anche lei. Sì, perché aiuta a dimagrire, antinfiammatorio, a un sacco di... Ma lei non c'ha bisogno della prova a costi, ma io ho visto delle... No, 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 c'ho bisogno, c'ho bisogno. E sì, adesso sul mare, sul lungomare di Muggia, adesso parte la stagione estiva. Ah, Muggia, si scattina lapi rozzi ragazzi. Sì, beh, vogliamo salutarli tutti, quelli da Muggia in moto, vogliamo salutare su Inbiza il flash acquatico, tanto noi ci vediamo come con tutti al sette colli, faremo un bel... Saremo più abbronzati, saremo più... E mi raccomando, perché noi la seguiamo, perché insomma... Un po' la pilozzi c'era sfuggita, un po' di mano, la troviamo più... Ogni tanto... Siamo venuti a... Non si perdono mai le mie tracce, però... Ha sotto sprova di sforzo, com'è? Sì. Ma quanti ne ha fatte quest'anno visite mediche? Ma si fa sempre così? Sì, prima degli eventi, diciamo, coni, tipo universiati, giochi del Mediterraneo, Olimpiadi, facciamo sempre queste... Giustamente. Quindi sono contentissima di farle, vuol dire che siamo ancora qui. Ecco Massimiliano. Eccolo. Ah, è Rosolino, è Rosolino, è Rosolino, è Rosolino che se ne va in giro, chissà dove... Lui lo inseguiamo. Va benissimo. Alla prossima, con Swim Beats. Ciao!